Il dato ufficiale di nascita dell'Accademia delle Scienze è il 25 luglio 1783, quando fu fondata dal re Vittorio Medeo III, ma già quasi 30 anni prima, nel 1756, tre giovani appena ventenni, il grande matematico Lagrange, il chimico Conte di Saluzzo e il medico Cigna, avevano fondato una società privata che aveva gli stessi scopi delle grandi accademie europee e avevano iniziato i loro incontri mensili, la pubblicazione dei primi volumi, erano diventati molto famosi in tutta Europa, tanto è vero che della società privata avevano fatto parte i più importanti scienziati dell'epoca, da D'Alemberra, Eulero, Beniamino Franklin e Corrivia e poi di lì nasce l'Accademia nel 1783. Sicuramente la fondazione dell'Accademia vuole mettere Torino, che era la capitale di un regno, sia pure piccolo come era il regno di Sardegna, a livello delle grandi potenze europee, il modello era l'Accademia delle Scienze Francesi, la Royal Society di Londra, l'Accademia Prussiana e questa Accademia aveva due scopi, da un lato la ricerca scientifica, infatti vengono chiamate a far parte dell'Accademia i più importanti scienziati piemontesi dell'epoca e anche un ruolo di promozione dell'innovazione tecnologica e di consulenza nei confronti del Re per tutto quello che riguardava brevetti, in particolare le questioni militari, l'artiglieria, i cannoni, le polveri e poi anche l'architettura e poi insomma qualunque altra innovazione che i Savoia promuovevano dal punto di vista industriale e che l'Accademia esaminava, valutava e dava poi il suo parere che serviva al Re per prendere una decisione. Già allora il Regno di Sardegna era all'avanguardia in Italia e guardava l'Europa, si cercava di mettersi al passo con le nazioni più avanzate, quindi certamente l'Accademia ha avuto un ruolo importantissimo in questo processo e vediamo ancora adesso le conseguenze, se Torino è una città della scienza, dell'industria, dell'innovazione tecnologica, le radici stanno proprio nell'atto costitutivo dell'Accademia del 1783. Noi abbiamo un archivio straordinario che tra l'altro è stato recentemente riorganizzato, riclassificato, sistemato dalla sovrintendenza archivistica del Piemonte e questo archivio contiene una documentazione di eccezionale interesse sulle domande presentate per brevetti di innovazione tecnologica e sui rapporti che l'Accademia mandava al Re e che erano stilati dagli accademi più famosi. Noi stiamo per pubblicare un volume in cui abbiamo raccolto tutti i pareri stilati da Avogadro, il grande fisico, insomma un nome importantissimo, il quale quando gli davano un brevetto, una domanda di brevetto, si metteva lì, l'esaminava e poi faceva il suo rapporto al Re. Grazie. Grazie.